Oltre 150 finanzieri del comando provinciale di Catania, a conclusione di un'indagine coordinata dalla locale procura distrettuale, hanno eseguito 29 misure cautelari personali, di cui 14 arresti domiciliari e 15 provvedimenti di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il sequestro preventivo di 25 impianti di distribuzione stradale di carburante nelle province di Enna, Catania, Ragusa e Siracusa. Agli indagati è stata contestata l'associazione a denigure finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi immessi nel mercato nazionale in evasione di imposto, ovvero a Cisettaz, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, frode in commercio e turbata libertà del commercio.